Salvo accelerazioni sempre possibili a causa del quadro politico nazionale frammentato, le prossime elezioni per il rinnovo di Camera e Senato dovrebbero tenersi in primavera, ma le formazioni politiche sarde già si stanno attrezzando in vista dell'importante tornata elettorale. In questo senso va la decisione assunta dalla Direzione Nazionale del Movimento La Base, che intende presentarsi alle elezioni nazionali con la lista civico sardista e il simbolo dei quattro muri. Una decisione che è stata formalizzata domenica mattina a Sassari, al termine della riunione del parlamentino del Movimento, che ha dato mandato al Presidente Fisarbao e al Consigliere regionale Gaetano Oledda di portare avanti il progetto politico. Questo prevede l'aggregazione della coalizione civico sardista, anche attraverso il coinvolgimento di altre forze identitarie, e soprattutto intende sostenere la proposta del Partito Sardo d'Azione di presentare una lista nazionale col simbolo dei quattro muri in tutti i collegi delle politiche, anche nella penisola. Si tratterebbe di un esperimento politico importante, sottolineano in una nota Fisarbao e Gaetano Oledda, che, oltre ad avere buone possibilità di alleggere dei candidati, sia con la legge elettorale attuale che con quella in approvazione, sarebbe il viatico in vista delle elezioni regionali e dell'idea di creare le condizioni per un governo civico e sardista per la Regione Sardegna.